E sabato sarà il giorno dell'Uni Euro, perché? Perché chiaramente la squadra di basket di Forlì dopo aver battuto alla quinta 100, ora è nel concentramento di Montecatini dove si giocherà la 2. È una situazione un po' particolare perché qualcuno pensa magari è una semifinale e chi viene eliminato va fuori. No, no, per chi non segue il basket, ricordiamo che il regolamento dice che delle 4 che si presentano al concentramento, 3 andranno in A2, una sola rimarrà in Serie B. E allora, ecco, giustificate le grandi speranze dei tifosi di Forlì che addirittura pare si sono prenotati in mille per la prima partita con Forlì che dovrà giocare contro la vincente della quinta sfida tra Udine o Bergamo. Con ogni probabilità sabato alle 20.30, quindi con ogni probabilità sabato i tifosi di Forlì e sono già in tanti, dicono le cronache, che hanno prenotato gli alberghi addirittura per poi rimanere nella notte a Montecatini. Nel caso in cui, ma noi non ci vogliamo neppure pensare, Forlì debba perdere con una delle due delle quali ho appena parlato. Poi in quel caso ci sarebbe la seconda possibilità, quella della domenica alle 18.30 dove si sfideranno le due perdenti ma a quel punto con un solo posto per la promozione in A2. Dunque, in bocca al lupo!